Esatto, rimani così e cerca di stirare il più possibile la schiena e le gambe dietro. Sempre respirando, eh? Ok, adesso andiamo giù con le gambe, con le zampe, e cerca di allungare il collo in su. Più che puoi, così, bravissimo. Su, 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 su. Di nuovo giù, adesso il collo, rilassalo. E lentamente ruotiamo la testa a sinistra, così, in modo da rilassare i muscoli del collo. Ok, respira, un bel respiro. Perfetto, adesso torniamo nella posizione iniziale, cercando di allungarci in avanti, e andiamo lentamente a destra con il collo, cercando di distendere i muscoli del collo. Bene, adesso dritto in avanti, respira, respira, respira. Cerca di allargare le orecchie. Perfetto. Adesso di nuovo leggermente la testa a destra. E lentamente a sinistra. Adesso proviamo a distendere il collo in avanti, e ci solleviamo col corpo, cercando di distendere il più possibile la gola e i muscoli del collo. Così. Perfetto. Ok, adesso andiamo giù, e abbiamo finito. Bravo pancino! No! No! Sì. Grazie.